Buonasera ragazzi ci troviamo al mitos per prima cosa abbiamo ordinato come di pasto questo con un maionese all'aglio e salsa piccante o meglio vengono chiamate qui le patate della nonna poi vi farò sapere come è andato a dopo allora le patate erano squisite infatti ve lo consiglio vivamente se mai dovesse venire qui a mangiare al mitos poi abbiamo ordinato i calamari con l'hummus libanese calamari fritti ora assaggio pure questo e poi vi faccio sapere e poi alla fine non poteva che mancare l'arroz o meglio la paella fatta con gamberi e moluschi di mare eccetera 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 ragazzi guardate che bestia che è viene servita direttamente in padella così e si mangia così non c'è bisogno del piatto ma si mangia direttamente con un cucchiaio dentro la paella adesso mi riferisco per questa e ci vediamo a dopo per il postre allora e qui la specialità della casa tiramisù al belis ancora un po' il sassaggio poi vi dirò come guardate per la paella questo fra poco non ci sarà più questo è quello che è rimasto quindi secondo voi è piaciuto o non è piaciuto un saluto adios da Mitosso di Valencia grazie 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 grazie